È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il collega Barbanti. Prego. Colleghi, se è possibile abbassare il tono della voce. Grazie, Presidente. Innanzitutto mi rammarica vedere l'Aula, ma soprattutto i banchi del Governo così vuoti. Questo è il rispetto che hanno per le istituzioni. E siamo ancora qui. Un copione che si ripete dopo solo un mese dalla scorsa fiducia. Fiducia che avete mortificato facendovi prendere in giro col successivo ritiro del Decreto Regge, il Salva Roma. Complimenti. Bella figura. Complimenti davvero. Vi siete fatti bacchettare anche dal vostro massimo garante, ovvero colui che siede colà dove si può e ciò che si vuole, visto che il suo nome in quest'Aula non si può pronunciare. E ora siete di nuovo qui, perché avete gestito male i tempi. Oltre 45 giorni al Senato e poi qui avete perso la faccia. Vergognatevi. Vi siete fatti trattare come schiavi. Vi hanno imposto il silenzio in Commissione. Non vi hanno consentito di fiatare. Vi hanno svuotato di ogni prerogativa parlamentare. E persino della vostra dignità hanno fatto di voi dei semplici piggi a bottoni. E il risultato è il venerdì nero. Oggi. Il venerdì nero. Si rivolga la Presidenza, collega, per favore. Mi sto rivolgendo a voi, Presidente. Il venerdì nero, che ha visto file interminabili di cittadini, prima davanti ai CAF e poi davanti alle poste per pagare la Minimu. 440 milioni di euro che non siete stati capaci nemmeno di trovare nelle pieghe di bilancio. La Minimu è l'ennesimo triste atto della commedia dell'assurdo che è diventato il nostro sistema fiscale. Tares, Tarsu, TA1, TA2, Tari, Tasi, IUC, ICI, IMU, TUC, Trise, Isi. E non si sa intanto neanche quanto si paga. Né quando si paga e né come si paga. Qua c'è una sola cosa, certa. Che a pagare sono sempre solo i cittadini italiani. Queste sono le tasse emesse dal governo Letta e Renzi. E mi viene da sorridere quando penso al Ministro Alfano, che in una conferenza stampa disse triunfante La parola IMU sarà cancellata dai manuali di diritto tributario. Bugie! E il trucco è sempre lo stesso. Il gioco delle tre carte. Dove chi perde è sempre solo il cittadino italiano. E questo è il nuovo che avanza? Il nuovismo è un'invenzione di chi non vuole cambiare niente. E noi sì che siamo invece per l'abolizione totale dell'IMU. E ve l'abbiamo proposto di togliere interamente l'IMU. Andando incontro a una richiesta per giunta che veniva dai sintaci del PD. Vi abbiamo proposto di eliminare completamente l'IMU. Tassando cosa? Il gioco d'azzardo. E voi che avete risposto? No. Siamo di fronte al sintaco segretario del PD che va contro i suoi stessi colleghi sindaci. È l'assurdo. Non vi è bastato regalare due miliardi di euro che avete fatto alle concessionaire di slot machine ad ottobre. E ora gliene fate un altro. Vergognatevi! E poi offendete i cittadini italiani offrendogli l'elemosina di 14 euro in busta paga. Ma ora parliamo del vostro modus operandi. Fate minacce e poi le occultate. Avete voluto nascondere la Banca d'Italia dietro la foglia di fico della cancellazione dell'IMU. Foglia di fico però bacata dal verme della mini-IMU. Ma la foglia di fico è caduta. L'abbiamo tirata giù noi per svelare il lato scuro del decreto, ovvero la scandalosa riforma di Banca d'Italia. Sì, perché questo è il vostro modo di agire. Usate lo zucchero per nascondere il sapore amaro e letale dell'arsenico. E questo cocktail poi lo bevono gli italiani. Ditelo agli italiani che gli state rubando la Banca centrale. Ditelo che gli state consegnando in mano ai tedeschi, ai cinesi e agli americani. Ditelo agli italiani che state prendendo 7 miliardi e mezzo di soldi loro per dargli agli azionisti privati della Banca d'Italia. Ditelo ai cittadini che sui loro investimenti prendono lo 0, qualcosa per cento. Che state garantendo a quegli azionisti privati un rendimento addirittura del 6% senza rischi. 450 milioni di euro che verranno sottratte alle casse dallo Stato. 450 milioni di euro che dovrete coprire con nuove tasse. State garantendo agli azionisti un rendimento che è 48 mila volte più alto di prima. e ditelo agli italiani la bella figura che ci avete fatto fare davanti all'Europa. Perché non glielo dite? Perché non glielo dite che ci hanno sgridato? Sì, come i bambini delle elementari ci hanno sgridato. Perché avete cercato di prenderli in giro facendogli esaminare questo decreto legge con soltanto sette giorni di anticipo. E non ci siamo presi solo il 3 in condotta. Ci siamo presi anche il 3 in matematica. Perché l'Europa ha detto che le forme le utilizzate sono basate su ipotesi congetturali quindi sul nulla. Ed è questo il Governo che si merita l'Italia. E il Ministro Saccomanni cosa fa? Cade dalle nuvole. Prima in audizione gli facciamo scoprire che qualcuno gli aveva nascosto un sostanzioso regalo agli azionisti. E' caduto dalle nuvole. Non lo sapeva. Ha fatto una faccia così. Poi dice che avremmo potuto aggiustare il tutto in un futuro provvedimento. Non vi preoccupate, tranquilli. Al mio Paese è tranquillo e morto con sicuro. E poi che non ci sarebbe stato nessuno a manco per le casse dello Stato. Ministro, a quando gli asini che volano? Ancora oggi ci state chiedendo di trattare con voi. Ma con chi? Con chi dovremmo trattare? Con due pregiudicati che decidono nelle stanze di un partito il destino di 60 milioni di italiani? Mi dispiace. Noi trattiamo soltanto con i cittadini e ascoltiamo le loro richieste e le loro preferenze. Non con voi del Partito Unico di Renzusconi. Voi siete per le banche. Noi per le piccole e medie imprese. Voi siete per le assicurazioni. Noi per i piccoli carrozzieri. Voi siete per le grandi lobby delle slot che vi finanziano. Noi siamo per le persone che pagano le tasse. Voi siete con i palazzinari e gli altri speculatori edilizi. Noi siamo per la difesa del territorio. Voi andate a braccetto con i lobbisti delle energie fossili. Noi invece vogliamo l'energia pulita e gratis per tutti i cittadini. Noi non vogliamo essere collusi con chi sta svendendo la banca degli italiani, con chi sta regalando gli ultimi pezzi di sovranità che ci restano. Noi vogliamo che la banca d'Italia sia pubblica di noi cittadini italiani. Vi abbiamo chiesto di cancellare questa vergognosa riforma dal decreto. Una riforma che non è neanche utile. E voi, manco a dirlo, avete detto di no. Sappiate che del vostro agire ne dovete rendere conto agli italiani. E noi siamo qui per ricordarglielo. Ora, e vado a conclusione, ditemi, dopo tutto quello che vi abbiamo detto, dopo tutto quello che qui abbiamo anche detto, oggi noi cosa dovremmo votare? Come dovremmo votare? Ma che cosa c'è da votare? Qui non c'è da votare né sì, né no e né astenuti. Qui c'è da mandarvi soltanto tutti quanti a casa.